di Bologna 2010 che quest'anno torna ai fastidi sempre, anche se il quadro economico come sapete è miglioramento, ma siamo ancora largamente al di sotto dei livelli precedenti alla crisi quindi qualche influenza su questo motor show ci sarà anche per le difficoltà della situazione economica, però sarà un grande motor show al livello di quelli che abbiamo fatto fino al 2008, quindi sarà ancora una grandissima manifestazione con le case automobilistiche che dirà la dottoressa Michetti chi manca e con tutte le manifestazioni che abbiamo sempre avuto, quindi prove, sport, tutto quello che ha fatto questa formula molto fortunata negli anni. Io non aggiungo di più perché adesso la dottoressa Michetti traccerà lo scenario e poi la dottoressa Michetti, la conoscete tutti, è l'amministratore delegato di Cia de Vano Italia, mentre poi la dottoressa Simona Sandrini che è direttore operativo del motor show vi illustrerà in dettaglio come sarà organizzata e articolata questa manifestazione che presenterà anche molte innovazioni rispetto al passato.